Bentornati ragazzi alla parte numero 42 di Marluigi Drinking Bros Ok, siamo qua nei pressi del Tempio Guanciale, anzi siamo nel Tempio Guanciale e dobbiamo posizionare finalmente l'ultraletto per incontrare Piumadormo che a sua volta sfonderà la barriera del neocastello di Bowser e ci renderà possibile il nostro infiltraggio, la nostra infiltrazione meglio così, l'infiltrazione va molto meglio suona più bene, anzi meglio più bene non è bello da dire, neanche quello suona male comunque sia, abbiamo premuto il bottoncino e abbiamo fatto incazzare Guanciale almeno dal nome che dice Sonioberto questo qui sembrerebbe essere Guanciale un robo Mario e Luigi, fate attenzione va bene, la faremo per di momento da altri nemico possibilità di vittoria 120% e tu che ne sai? conosci per caso Mario e Luigi? no, e allora attaci allora voglio però cambiare spille con queste boh, mi trovo male mi sembra che si caricano troppo lentamente almeno poi secondo me ABB ma non sbagliare così ma allora va bene ho sbagliato in pieno comunque ragazzi sono 9 schivate e questo vuol dire che se non faccio questa qua giusta la prossima sono cazzi oh ti prego fammene arrivare una che posso farcela ok, primo secondo terzo meno male e le schivate sono a bosco sono fatte me la sono cavata molto male però con gli albe monstri devo dire il che ragazzi è un po' ironico se ci pensate ok lascio così anche se vorrei zoomare un po' di più ma chi se ne frega tanto fra poco mi toccherà riusare un attacco dei due possibilità di vittoria scarse ecco che si è autodepresso autodepresso si 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 facciamo il fratellicottero va è un po' più facilotto se solo non dovessi inclinare troppo magari potremmo anche forse si tratta una bella visuale che ne dite no sono andato troppo oltre madonna santissima ok in modalità 20 metro ragazzi come vedete va più lento diciamo con i laser e ora che è a terra perché è più maravolante possiamo fargli un bel schianto jet sempre se riuscirò a mirare bene perché se non ce la faccio ok touch jolly che io ho avuto un culo grandissimo continuiamo di fratellicottero continuiamo col fratellicottero e ok guardate che casino devi fare se non puoi premieterti una capture e vuoi portare il team brosso sul canale perché bravo perché non merito un po' di più io ah io mi son fatto male però almeno le schivate di fila resteranno e merdaccia l'hanno curato del tutto sì mille anni no 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 tu crepi adesso subito tu crepi hai capito? ok sto per dire un'altra cosa però non si può dire rischio di essere troppo volgare no 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 e se provassi il fiore di fuoco che a volte è sottovalutato come arma sarebbe tanto male? non sapete tanto per magari scopo una debolezza che lui ha e se no magari non lo uso più dico magari eh eh gli fa poco alle ali e poco a insomma fa poco a tutto eeeh quante volte vuoi colpirmi l'altra puttana aiuto e ora quel pazzo che farà? sì va bene e poi cazzarola ah questi unici di qua allora sono più veloci va bene se riuscissi poi a beccarlo sulla sul fondo schiena da quello becco no troppo tardi posso provarci di nuovo aiuto però insomma ah gli ora facciamo così bomba rapida e poi salterò il tunno di Luigi per curarlo così non dovrò neanche usare l'inclinazione le penso tutte per non dover fare di nuovo quelle cose lì insomma sarebbe un buon attacco se non fosse per l'inclinazione tu non ci provare nemmeno insomma attaccarmi di nuovo perché le prendi ma tanto modalità supplica ma starai scherzando spero e vabbè un po' troppo presto qua no non curarlo bastardi di merda vabbè intanto mi becco il bonus dell'esperienza va comunque bastardi che siete non potete farlo anzi ormai l'hanno fatto si vabbè era per dire che era sleale dai spero mi sia capito cioè che io mi sia fatto capire fratelli cottero e speriamo adesso di non fare cacciate eh ma dai oh si ma che palle vaccavoia non è possibile perché è così difficile afferrare un gesù santo spiegamelo tu perché è così difficile beccare un fratello allora vabbè cannone a dio tanto è l'unica cosa che posso fare con i PA che è a Mario a b b b b a a ole dai presto che se no si autodistrugge e scoppia il nucleo tipo errore io ho vinto ottimo meriti va mi ha fatto sudare non sette camicie ma quarantanove camicie tanto per farvi un'idea ecco tutto sto casino poi alla fine vedi per avere il livello 36 io che ti metto Mario ah ok due in PA va bene sono già d'accordo così allora tranquilli scialli tutti scialli vabbò e a te Luigi ma si velocità va ora ci metterà una vita per fare il livello 37 però chi se ne frega ormai non mi importa più sono troppo contento per le schivate yeee si ragazzi porca troia si troppo contento HD ci ho messo 4 parti per fare queste schivate e poi guarda te ma le mostri impossibili da schivare boomerang bros che tipo aiutatemi fatemi venire qualcosa giù dal cielo tipo un'idea guancia l'occhio impossibile che quello e cioè tra allenamenti offline e tutti i nemici che c'erano con le possibilità di allenarsi a schivare cioè giuli riesce a fare l'ultimo schivato proprio con il boss all'inizio ma proprio il colmo vabbè ok ragazzuoli è meglio che salvo non tanto perché insomma è già finita la parte ma perché devo fare una sosta e non vi dico dove perché ormai penso che sappiate tutti no ma vi darò un aiutino se siete un po' netti di comprendonio il vostro amichetto giuli in pratica ha dei problemi di vescica ecco ho detto quindi ora si salva e ci ribecchiamo non appena quello stimolo lì mi avrà detto arrivederci buona ragazzi allora andiamo avanti allora qui bisogna solo scalare la cima dell'albero cioè farsi stare da terra la cima dell'albero ma pensa te giuli quanto sei sgrammaticato quest'oggi vabbò allora qui non si può andare vero? e allora dove dove andare io? sinistra? proviamo sinistra all'ora vediamo un pochettino eh andiamo non lo so di qua se torni indietro smarrirai la strada ok quindi qua ah si mi ricordo il trucco dobbiamo seguire le monete per la strada giusta e infatti vedete quel suono l'indica che sono sulla strada giusta sulla retta via bene bene let's go ma prima vediamo qua se c'è qualcosa altro che se c'è il primo tassello onirico di scusate di sonnambosco onirico ok si vede che sto per andare al mare vero ragazzi è infatti giorno 92 domani non sarà qui a registrare ma andrà con amici al mare ecco e nulla ragazzi però ho già un modo per portarvi le parti lo stesso anche se sono al mare perché comunque sia di tempo ne ho tranquilli dedicherò tipo mezz'ora all'upload quindi tranquilli ragazzuoli io sto registrando di luglio ma tranquilli che le parti le avrete ecco quindi non preoccupatevi perché Giori non abbandonerà in balia di essi stessi i suoi scritti tranquilli tranquilli vabbè che tanto lo sapete dopo perché ricordo che sono pre-registrate queste parti per diciamo prevenire guai per così dire ecco aspetta aspetta che cazzo ho fatto perché sei tornato di qua Giori di madonna senza manovere la testa quest'oggi eh Dio santo allora vediamo un po' allora andiamo di qua a destra vero? eh direi di sì dappertutto a parte che è là guarda 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 eh guarda c'è il fagelotto dorato là eh ma come si raggiunge il fagelotto dorato? non lo so me ne preoccuperò più avanti in futuro per ora mi sa che non è momento di pensarci va? aspettate ah ok non dovevo prendere quel tubo lì ma bensì questo eh infatti vedi eh guarda un altro qua che si vuole far ammazzare vabbè tanto mi volevo allenare comunque vale fatto fuori un altro si prosegue allora vediamo un po' adesso come si può fare e vediamo un po' vediamo un po' ah ok bisogna usare quelle scusate eliche non ventole sono eliche eh già quindi usiamo il potere del vento adesso per andare qui sopra spingiamo questa cosa qua in giù questo blocco somma di legno premiamo questo interruttore qua ok così li posso andare avanti tranquillamente ma prima dovrò disattivare le eliche vabbè ci penseremo poi eh ultra sciroppo vabbò d'accordo ultra sciroppo aglio adesso andiamo di qui e poi e poi nulla andiamo anche di qua freddi 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 fredda queste sono le famose monete rosse che dovete affrettarvi a prendere no eh lo sapevo io adesso eh vedi dovevo tivarlo prima questo coso queste eliche sono dovevo tivarle prima 3 4 5 6 2 2 2 2 e ce la fa per un millesimo di secondo millesimo di secondo ce la fa ok ero così cioè ti devo dire un forza così tanto che mi sono mangiato qualcosa nel parlare no vabbè insomma errare è umano basta che sia contenuto come dico sempre l'errore poi e niente e tutto si risolve no ok qua c'era un piccolo cieco complimenti joli hai sprecato due minuti della tua vita bene bene pagliurra adesso andiamo di qua riattiviamo tutti quanti questi sembrano però delle piante non sono tipo girandole boh insomma elica girando è quello che sono vabbè andiamo avanti basta cervellarsi su queste cose ahi l'errore poi adesso andiamo di qua vediamo un po' come possiamo fare potremmo fare semplicemente anche così magari se non è un problema troppo grosso e lì come ci arrivo scusatemi ah ok aspettate forse dovrò fare così e lì poi posso andare lì dentro col cono magari senza sì senza no magari ok ora così riattiviamo il cono e mi infilo anche lì sotto perché sono convinto che c'è roba importante ultra caramella beh dai meglio di non trovare niente in effetti ecco adesso ritorniamo qua poi aspetta quello è da demolire? eh sì mi dissero di sì ok adesso possiamo andare di qua verso sinistra e scoprire che c'è ah 100 monete niente di più vabbè è inutile che mi segui tu meccanismo di luigi tanto non ti eh aspetta what's there? delle monete e perché prima non le ho trovate? bah chi lo sa e questo tubicino qua dove porterà? vediamo un po' eh che strano posto e non si vede una mazza ok allora oh eccolo qua un bel vento che può spazzare via tutto tutto questo fogliame oh e vediamo ah gli ho la tassella attacco prima cosa ok seconda cosa c'era lui il tizio che mi voleva sfidare ma insomma volevo un attimino martellarlo oppure saltargli in testa no non ce l'ho fatta di pochissimo vabbè che sfiga bene bene 800 ok e quanti maestro come premio per essere arrivato appunto a 800 e passa di punti esperto oh vedete le gioie della vita? già e quando arriveremo mille ragazzi perché voglio arrivarci? figuratevi dopo ecco perché ci tengo a fare un po' tutte le sfide ecco mi è venuta anche un'idea forse ragazzuoli quella del nessun danno 43 la faccio nelle parti extra ole e fatto anche qua liberato tutta la zona allora piuttosto però piuttosto vediamo un po' qua dove si sbuca ah di qua non dirmi che arrivo dal fagiolato dorato e invece sì che ci arriva oh che bello averti incontrato caro amico dal da Superstar Saga eh esatto sto a perdere dal Bosco Ghigno ma aspetta effettivamente è lì che si trovava in Superstar Saga eh sì me lo ricordo però lì non si poteva nemmeno toccare era peggio ancora dai Maggi Luigi Tifone e poi cerchiamo di ucciderlo ecco mi piace che la scorsa volta una volta diciamo mi sono rifiutato di diciamo sfidarlo però non volevo protrarre la parte troppo lungo cioè non volevo insomma avete capito non previ troppo le palle e quindi ho voluto contenermi un attimino con la lunghezza dei video e adesso dov'è lì 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 no niente ragazzi dovrò lasciar stare allora ormai faccio salto perché tanto lo so che scatterà e magari mentre mi sto dato come miserare lui cambia idea e infatti vedi lo so ormai come il mio destino cioè quando mi sento fortunato sono sfigato e quando mi sento sfigato sono fortunato della serie tanto per darti torpo la solita simpaticissima legge di marfi colpisce ancora e ma ci decidiamo a fare un bel fantastico no eh costa troppo e non capisco nemmeno dov'è che sbaglio a volte ma vabbò pazienza non si può capire allora suppongo che sia così ok di nuovo terra a tutto spiano di nuovo con il Maggi Luigi muro ok dai forza oh è sconfitto un altro pagiolone fratelli beh che bellezza che bellezza si 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 proprio proprio mi piace Agliura vediamo un po' ok eccoci lì ed ecco che Faberletto ci raggiunge per dirci che ah una scalata con i fiocchi va bene tutto qui vabbò lui semplicemente questo va a dire va bene Agliura ci saranno altri salvataggi blocchi di salvataggio qua no devo tornare giù ma per fortuna guardate quanto è semplice Ale un vero bicchiere d'acqua non proprio però vabbè sono dettagli Agliura Agliura diamo una sistematina entrambi dopo la battaglia bossa estenuante anche per me si meritano veramente un po' di riposo va e allora ragazzi niente che dirvi la parte finisce qua spero che vi sia piaciuta mettete un bel like commentate iscrivetevi al mio canale e nulla preferisco fare così metà su un ambosco unirico adesso metà su un ambosco unirico nella parte 43 e vabbè quindi ci si becca poi si perché registrerò in seguito